I Crucchi sono da qui, saranno uno scopro avvicinato, tenetevi! In attesa! Non deviate ricaricare un passo! Potremmo evitare i cincesso! Vedo, posso cercare un passo! Andiamo! Sì signore, ancora un carro armato a sud, distruggendo! Non ci sono! A presto! Andate a fermarli! Piaccia, patate, correte! Andate! 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 Bravi, parta, andiamo! Grazie a tutti. 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 a tutti.